Voi ci credete la legge dell'attrazione? Cioè che se siete positivi le cose vanno meglio, se siete negativi invece le spighe si susseguono una direll'altra? Io ci credo tantissimo e questi giorni sono proprio la prova perché senza motivo, la mattina mi sveglio proprio nervosa, cioè litigerei col mondo senza un motivo particolare e non è da me perché io solitamente sono una tollerante, calma, ma non so sto periodo che mi sta a pia, probabilmente sono sempre gli ormoni e negli ultimi due giorni praticamente mi si è rotta la lavatrice, o meglio non mi scarica, mi si blocca e rimane con l'acqua nell'oblò La connessione un attimo c'è, un attimo non c'è, stamattina mi si era accesa la spia sulla macchina che poi fortunatamente si spenda Insomma, mi sta in calma Poi ieri sera dico, sai che me vado a fare una bella passeggiata nei campi, faccio pure qualche storia Stavo col cellulare in mano a fare una ripresa, non ho visto una buca, ho piato una sorta che a momenti mi slovo la caviglia quindi sono tornata ancora più arrabbiata Marco, questi giorni mi sta lontanissimo, infatti non so se avete fatto caso, non si vede mai nelle storie perché come, provo a dimmi qualcosa, che intendevi? Che cosa volevi dire? So, così Vi giuro, non mi riconosco più Poi la mattina, quando mi alzo, no, che magari la notte ho dormito male già faccio fatica ad aprire gli occhi e tenerli aperti perché ho la secchezza oculare adesso ho preso appuntamento con l'oculista per controllare la vista, insomma e sto tutta così mi guardo allo specchio e mi dico, ma chi è quella? Cioè, proprio vi giuro, non mi riconosco un po' perché sto tutta chiusa e quindi sto tutta acciaccata penso che sono evidenziata ancora di più le rughe che ho qua, tra le ciglia e qua sotto la fronte no, ma più che altro, cioè, io non sono così cioè, io sono a questo punto direi ero una che, cioè, non mi arrabbiavo mai cioè, per farmi arrabbiare uno proprio la doveva combina grossa, grossa, grossa perché proprio c'erano una soglia della pazienza altissima trovavo sempre la soluzione per tutto ero sempre ottimista, di buon umore è un periodo proprio, io non so per quale motivo anche perché non c'è motivo, no? e poi mi sento doppiamente stupida perché mi rendo conto che, appunto, non c'è un motivo per stare così arrabbiati no? respira, Benny respira vi prego confermatemi che sono gli ormoni che è un periodo transitorio che poi dopo passa, però e torno alla benedetta di prima quella sempre sorridente, tollerante, del buon umore mmm